Oggi prepariamo un bello spaghetto con seppie e carciofi. Puliamo le seppie, tagliamole a striscioline, a parte tagliamo i carciofi a spicchietti, andiamo a mantecare nella padella con aglio, olio e mentuccia i carciofi appena saltati. In un'altra padella prepariamo invece le seppie con aglio, olio e seppioline e un goccio di vino bianco. Lo portiamo a riduzione, dopodiché uniamo le due cose. Caliamo la pasta a tre minuti prima della cottura della pasta, la mettiamo nella padella con le seppie, i carciofi e la mentuccia, uniamo un filo d'olio a crudo con un goccetto di acqua della cottura della pasta e spadelliamo. Impiattiamo e buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti!